Di quell'invenzione di 28 anni fa, la prima pagina web, non c'è traccia sui giornali di quel periodo. È una rivoluzione tuttavia destinata a cambiare la nostra vita, la nostra esistenza. Adesso quelle tre lettere in successione, tre volte W, che noi in italiano diciamo www.iltirreno.it, sono entrate a far parte della nostra vita quotidiana. Eppure è iniziata allora una rivoluzione digitale di cui non conosciamo ancora gli esiti finali. Una cosa è certa, è una rivoluzione molto più profonda, molto più intensa della prima grande rivoluzione industriale che in Europa si ebbe tra il 700 e l'800. Innanzitutto perché sta cambiando il modo di produrre non solo le cose ma anche le idee. E perché internet abbatte le barriere spazio-temporali. Cosa significa? Significa che io posso dialogare e connettermi in qualsiasi momento con qualsiasi parte del mondo, dall'Australia all'America Latina, solo se ho una buona connessione e se evidentemente ho delle buone idee, delle buone informazioni da scambiare. Ma anche la barriera temporale viene abbattuta perché grazie ai motori di ricerca io riesco a recuperare materiale prodotto nel tempo che altrimenti finirebbe in un polveroso archivio o in una biblioteca o in un giornale. Però questo grande, grande sogno di libertà sta dimostrando già adesso i primi lati oscuri. E allora facciamo parlare il suo protagonista, l'inventore, il team che oggi è un giovane ultra sessantenne, giovane di testa, che cosa ha dichiarato qualche settimana fa alla rivista Vanity Fair. Dice, se vogliamo garantire che il web faccia l'interesse dell'umanità, dobbiamo badare a ciò che la gente ci costruisce sopra. Mi si è spezzato il cuore, dice Tim, anziché fare l'interesse dell'umanità come era nelle intenzioni, Internet l'ha tradita. La sua crescente centralizzazione ha finito per produrre un fenomeno su larga scala dai tratti anti-umani, parola dell'inventore del web. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che alcuni grossi operatori dei veri e proprio monopolisti digitali stanno controllando questo mondo, vengono definiti gli over the top. E gli over the top, attraverso la profilazione delle persone, sia chi ci trascorre ore su Internet, sia chi ci sta pochi minuti, ebbene conoscono tanto, tantissimo delle nostre abitudini, hanno più memoria della nostra memoria. Questo è il lato scuro dell'umanità.